Per quanto riguarda la collaborazione e la possibilità per la scala di portare la propria cultura anche nei paesi del Golfo, nulla questo è una cosa sicuramente positiva. Per quanto riguarda invece il discorso della possibilità per il governo saudita di entrare a far parte del Consiglio d'amministrazione credo che si debba valutare, esaminare, capire anche cosa dirà il governo nazionale perché su quel governo esistono alcuni punti di domanda. In ogni caso ogni scelta verrà fatta dal Consiglio d'amministrazione, mi sembra che a breve ce ne sarà uno e cercheremo di capire da colui, dal suo intendente che ha portato avanti questo genere di trattative, di capire quali siano le condizioni, quali sia la situazione per poi poter dare una risposta. Io ero conoscente soltanto della collaborazione culturale per cui a quella avevo dato sicuramente un parere positivo, per cui il resto bisognerà meglio approfondire. Per quanto riguarda invece il discorso di Aria, Aria continuerà ad essere una società della regione, innanzitutto un mezzo attraverso il fatto che la regione rivolgerà la parte più importante della propria politica legata agli acquisti, quindi credo che debba rimanere rigorosamente pubblica.